Sintesi previsionale per giovedì 21 settembre 2023 e successivi due giorni. Marcatamente instabile con molte nubi su buona parte della penisola, più compatte al nord-est e lungo la fascia tirrenica, zone nelle quali vi saranno rovesci o temporali, a tratti diffusi ed intensi. Altrove nel complesso asciutto con al più qualche sporadico piovasco di poco conto. Schiarite più ampie sulle isole. Tendenza dalla sera ad un nuovo peggioramento al nord-ovest con piogge. Temperature in lieve calo e ventilazione tesa dai quadranti meridionali, in particolare in mare aperto. Successivi due giorni. Aria fredda polare marittima inizierà ad investire direttamente la nostra penisola da venerdì, portando un netto peggioramento al nord e poi sulle centrali tirreniche, accompagnato da temporali molto intensi con colpi di vento e grandinate. Possibili allerta per rischio idrogeologico. Il maltempo si sposterà al sud nella giornata di sabato, anche qui con intensi temporali. Temperature in crollo verticale, fino a valori localmente al di sotto della media. Venti forti. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate, iscriviti e attiva la campanella.